Buongiorno da ETG Marche e bentrovati a questa nuova edizione del nostro telegiornale, come di consueto in contemporanea streaming sul nostro sito internet etvmarche.it, la nostra pagina Facebook e la nostra app di ETV. In primo piano parliamo dell'udienza che si è tenuta ieri presso il Tribunale di Ancona legata al processo per la lanterna azzurra, la strage della lanterna azzurra in aula, presenti sia Fedez che Sfera e Basta. Vediamo. Erano attesi e sono arrivati. Fedez è entrato nel Tribunale di Ancona oltre un'ora prima dell'udienza fissata per le 10.30 e ha incontrato alcuni parenti delle vittime con cui ha parlato per qualche minuto. Sfera e Basta e il suo manager Shablo sono giunti a udienza iniziata intorno alle 11.00. Tutti hanno rigorosamente evitato le telecamere e i fotografi passando da un'entrata secondaria. Convocato come testimone dell'accusa nel processo bis per la strage della lanterna azzurra a quello sulle carenze strutturali del locale e le responsabilità relative alla sicurezza, Fedez si era esibito nella discoteca di Corinaldo in due occasioni nel 2015 e nel 2016. Il rapper milanese ha ribadito in aula quanto già dichiarato tempo fa in un'intervista televisiva. Con un casce di circa 20.000 euro per l'artista e un costo massimo del biglietto imposto dal contratto di 20 euro, inevitabile, dice Fedez, il superamento della capienza massima del locale che in quell'occasione era di appena 500 persone, inevitabile e dunque assolutamente previsto dagli organizzatori che altrimenti non avrebbero potuto coprire neppure metà del compenso dell'artista. Un enorme indizio di consapevolezza, cioè tu quando fai qualcosa che non è legale e tu sei sicuro che fai qualcosa che non sarà legale perché devi coprire un costo che se avessi rispettato le leggi non avresti mai potuto coprire, per cui tu al momento in cui stipoli incontrati di quel tipo sai che infrangerai la legge. E poi la volta di sfere baste del suo manager Shablo, l'artista si sarebbe dovuto esibire in un DJ set alla lantena azzurra proprio quella tragica sera. Stavano proprio per giungere al locale quando vennero avvertiti dell'incidente, raccontano e così tornarono indietro. Entrambi confermano che più volte era capitato anche in altri locali che venisse spruzzato, spray urticante, sfere bassa ricorda almeno 3-4 occasioni, senza però le tragiche conseguenze che si verificarono l'8 dicembre 2018 a Corinaldo quando persero la vita 6 persone. In quegli altri luoghi che probabilmente deduco fossero a norma non è successo nulla, c'è stato un deflusso delle persone, si è interrotto l'evento per poi riprendere in totale sicurezza, mentre invece quella sera si è verificato l'opposto perché sono morte 6 persone. Hanno proprio tutti confermato che era un periodo di particolare allarme sull'uso dello spray, non solo nelle discoteche, nei DJ set, negli stadi, quindi c'era un'allerta molto molto alta, soprattutto perché è un fenomeno da prevenire e nel caso di specie nessuno risulta abbia fatto nulla per rafforzare la sicurezza, quindi ulteriori conferme rispetto alle imputazioni del PM. Le misure riguardano arresti domiciliari e un decreto di sequestro preventivo bloccando anche altri 700 mila euro di fondi a valere in parte sul PNRR. Le misure riguardano arresti domiciliari e un decreto di sequestro preventivo emessi dal GIP di Macerata su richiesta dell'European Public Prosecutors Office di Bologna. Per un milione di euro i provvedimenti giungono dopo complesse indagini condotte dalle fiamme gialle di Camerino nei confronti di due cittadini italiani e di una società riferibile ad una di loro, beneficiare di finanziamenti agevolati e garantiti per 1.175.000 euro con accesso al Fondo di Garanzia Nazionale. Le indagini hanno fatto emergere numerose ipotesi di truffa aggravata ai danni dello Stato. Sicurezza e sanità. Il tentativo è quello di garantirla sia per i pazienti negli ospedali ma anche e soprattutto per chi ci lavora dentro un ospedale. Così sono stati inaugurati nei nosocomi di Macerata e Civitanova due nuovi posti di guardia per la Polizia. Un risultato molto importante. Apriamo due presidi della Polizia nei due principali nosocomi della provincia ed è un gesto di assoluta vicinanza e di supporto a quello che è il personale sanitario che svolge una funzione delicatissima perché garantisce il diritto alla nostra salute ma direi anche una forma di vicinanza a quei cittadini che si avvicinano per un momento di loro fragilità al pronto soccorso e quindi chiedono che nell'avere questi servizi gli sia garantito una condizione di sicurezza da quelli che sono episodi di aggressione verbale o fisica nei confronti del personale sanitario. Ripristinare un senso di benessere collettivo che aiuterà sicuramente a garantire un miglior servizio sanitario. Ripristinare la sicurezza presso i due maggiori ospedali della provincia così il prefetto Flavio Ferdani dopo l'inaugurazione dei due nuovi locali destinati a posto di polizia accanto ai pronto soccorso di Macerata Civitanova Marche soddisfatto l'assessore regionale Salta Martini. Sì è un vero miracolo quello che si compie oggi anche tenuto conto della carenza che si registra negli organici delle forze d'ordine è un segnale di cui dobbiamo ringraziare il prefetto, il questore di Macerata ma anche il ministero dell'interno. voglio anche dire che anche tramite la polizia locale ci saranno cooperazioni a vasto raggio di tutte le istituzioni e naturalmente per la regione Marche che ha anche la competenza in materia amministrativa e legislativa di sicurezza urbana cercherà di vedere quali misure si potrà adottare a livello regionale per garantire sempre i livelli maggiori di sicurezza urbana. Dunque ripristinati due presidi molto importanti anche alla luce dei vari fatti di cronaca degli ultimi mesi che spesso hanno visto protagonisti, anzi vittime, gli operatori sanitari. Noi tutti i giorni, quotidianamente tutti gli operatori si sforzano, si adoperano affinché questo avvenga. Purtroppo a volte si verificano delle situazioni inaspettate e non prevedibili a priori che noi cercheremo con l'aiuto delle autorità pubbliche di mettere in sicurezza. Questo è il mio impegno quotidiano, questo è l'impegno quotidiano del mio staff, questo è l'impegno quotidiano della mia direzione e questo è l'impegno quotidiano della nostra regione. L'infrastruttura è il sopralluogo dei parlamentari marchigiani nelle gallerie del tratto a sud dell'A14. Caschetti e giubbotti retroilluminati per i quattro parlamentari della Commissione Ambiente della Camera, un viaggio di quattro ore, iniziato all'ora di cena di ieri sera, quello dei deputati Stefano Benvenuti Gostoli di Fratelli d'Italia, Giorgio Fede dei Cinque Stelle, Augusto Curti del PD e Stefano Battistoni di Forza Italia hanno visitato i cantieri delle gallerie A14, tra Abruzzo e Marche, prima quella abruzzese di Colle Marino, poi l'arrivo nelle Marche, nel tratto tra San Benedetto del Tronto e Pedaso e l'ingresso nella galleria di Monterenzo in quella di Pedaso, un imbuto, quello del sud delle Marche, teatro di troppi decessi. Due gallerie, cioè rispettivamente quelle marchigiane, che sono oggetto di lavori di adeguamento impiantistico, saranno riaperte, almeno stando a quelle promesse che ci hanno fatto i funzionari di autostrade per l'Italia, saranno riaperte nei mesi di aprile e maggio, quindi questa è un'ottima notizia. Poi sono in corso di altri lavori più complessi, anche di adeguamento strutturale, del tratto autostradale, che ci dicono che avranno uno sviluppo notevolmente più lungo e comprenderanno dei lavori fino a buona parte del 2024. Ho richiesto di fare a breve un nuovo sopralluogo per verificare che le promesse e gli impegni che hanno assunto Autostrade per l'Italia vengono effettivamente rispettati. I lavori di sicurezza interesseranno anche il tratto autostradale scoperto, poi l'inizio degli studi di fattibilità e dei lavori nelle altre cinque gallerie. Hanno chiesto massima sicurezza e massima velocità nei cantieri, un panorama complesso, quello delle infrastrutture in questione, vittima di ritardi e mancati investimenti, secondo l'onorevole Fede. I ritardi nel fare queste opere doverose di manutenzione per la sicurezza, ricordo che sono partite dall'azione del Ministro Doninelli a seguito del cloro del Ponte di Genova e ricordo anche che la normativa di riferimento per i controlli sulle gallerie era del 67, quando le nostre gallerie erano nate nel 73. È come applicare le disposizioni per dei neonati ad un paziente che oggi è da geriatria. La seconda condizione è non aver mai investito su questo tratto. Noi che viviamo le Marche, bellissimo territorio, uno dei più difficili da raggiungere se non con l'auto, sappiamo cosa significa e questa cosa dipende da non aver investito prima sull'ampliamento lo studio di prefattibilità. Oggi c'è, però da qui bisogna procedere speditamente per trovare una soluzione. Noi invece siamo in chiusura, vi ricordiamo che come di consueto le notizie le trovate pubblicate sul nostro sito etvmarche.it ma anche sulla nostra pagina Facebook di Etv Marche. Grazie ovviamente per l'attenzione e l'augurio è quello di una buona giornata in compagnia dei nostri programmi. Arrivederci.